Un fondo di 500 milioni di euro per aiutare le famiglie più colpite dall'inflazione ad acquistare beni alimentari di prima necessità. L'iniziativa si chiama Dedicata a Te. È una carta che i nuclei familiari con reddito ISE inferiore a 15.000 euro potranno ritirare da luglio all'ufficio postale, dopo aver ricevuto una comunicazione dal comune di residenza. Dai benefici sono esclusi i cittadini che usufruiscono di altri contributi governativi. Attenzione, dovrà essere attivata entro il 15 settembre 2023. La carta permette di acquistare prodotti alimentari con promozioni dedicate dalle attività convenzionate. Grazie per la visione!